Sono Enrico Pasquale Batecò, abito a Monte San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e i gruppi che piacciono a me sono il sovrappeso perché sono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sexy, cantano Orciano, ma cantano sabato 21 febbraio al punto zero Fashion Caffè di Pontacappiano, Fucecchio, sabato 21, io mi aspetto lì perché sono un ragazzo carino, ho la Playstation 3 e ascoltorciano dei sovrappeso perché sono ragazzi, punto zero Fashion Caffè, ve l'ho già detto, non me lo ricordo, io ci vado, se no mi tocco questa qui a zappare la vigna, a lavorare, quindi io guardo di andarci, voi che facete?